E ora come ogni domenica sera ci colleghiamo con Fabio Fazio per conoscere che puntata sarà quella di stasera, di Che Tempo Che Fa. Te lo dico anche in rima, guarda. Grazie. Grazie a te e a tutti i telespettatori del TG1. Questa sera abbiamo davvero una puntata molto molto speciale. Oltre al professor Cottarelli, come sempre, questa sera incontriamo Roberto Saviano, Nanni Moretti, Raffaella Carrà, che torna in televisione, Gianluca Vialli, Marco Mengoni. Porteremo tutti gli spettatori di Rai 1 alla scala dove incontreremo il maestro Riccardo Chai e poi il nostro tavolo con Gerry Calà, Alba Parietti, Baby Kay. Insomma, Lello Arena e il solito naturalmente Lino Frassica con la nostra Luciana Litizzetto. A tra poco dunque, Rai 1, grazie. Sono le 20 e 34 minuti e 12 secondi, termina qui l'edizione di prima serata del TG1. Vi lascio allora a Che Tempo Che Fa, grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti. Grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti.